Oddio questo livello, quanto ci ho sclerato in live, quanto ci ho sclerato in live Beh cerchiamo di non fare cazzate e portiamocela a casa, ora ho più esperienza, ho più di mistichezza col gioco, ho più esperienza Quindi sono sicuro che posso portarmelo facilmente a casa E portiamoci a casa questa a più dai Ok raga, qui il nostro peggior nemico sarà il tempo Usate spesso il dash per evitare i pericoli, come vedete come sto facendo io Cerchiamo di ottenere tutti i perri Attenzione qua, ok terzo, perfetto Qua vi conviene aspettare due secondi piuttosto che mandare affanculo la vostra run E qua raga, qua dovete essere precisi e veloci Cosa che io non sono stato assolutamente Perché questa è la parte del livello che vi farà perdere più tempo Dovete cercare di eliminare subito le zanzarone Qua ragazzi spero che voi abbiate un po' di abilità con i platform Altrimenti piangerete sangue Perché sta parte non è semplicissima Però dovete correre come dei dannati ragazzi Dovete avere le ali ai piedi Altrimenti non ci arrivate a fare a più Dai Vai di super mossa Dai che è morto, dai che è morto E muori Dai, dai, dai Dai, dimmi che ce l'ho fatta, dimmi che ce l'ho fatta Dai, avanza Ok, dai Dimmi che ce l'ho fatta, dimmi che ce l'ho fatta Dimmi che ho raggiunto il tempo Che ce l'ho fatta dentro il tempo limite Dimmelo, ti prego Dimmelo, ti prego, ti prego Diventa dorato Diventa dorato 1,23 Che tempo devo fare per ottenerlo dorato Sono senza parole Sono stato quasi perfetto ragazzi Vuol dire che devo essere ancora più veloce evidentemente Va bene Sfida accettata Non ti preoccupare Come sapete Io adoro le sfide Sono il mio pane quotidiano Raga, servono le schivate purtroppo Le schivate purtroppo sono essenziali Essenziali Allora, dai, dai, dai Ok, dai, dai Ok, dai Platform, dai Boss di merda Vuoi morire, per favore? Puoi morire? Non ti chiedo molto Vorrei che tu morissi, però Eh, vabbè, se non muori ora con la superarma Ti prego, dimmi che ce l'abbiamo fatta Ti prego Cioè, sono stato velocissimo Se non ce l'ho fatta adesso Eh, bravo, bravo Bravo, ora vediamo se sono stato davvero bravo Dai, dai Ma mi prendi in giro Mi prendi per il culo Ragazzi, sono stato velocissimo Sono stato velocissimo Sono senza parole Ragazzi, onestamente la cosa mi puzzava un po' Perché Perché rank B? Comunque avrei dovuto ottenere, non lo so A? A meno? Era proprio strano A B? Ho fatto una veloce ricerca su internet Ho trovato altre persone che riscontravano lo stesso problema Facendo anche un tempo un po' migliore del mio Tipo un minuto e 0,7 E nonostante ciò non riuscivano a ottenere il tempo dorato E quindi a più E quindi la conclusione è che Probabilmente al 99,9999% Questo livello è buggato So che si potrebbe risolvere la cosa Attuando la modalità pacifist Che è un grado in teoria anche superiore ad a più Però ragazzi Quelle ce le teniamo per dopo Per quando affronteremo il gioco a modalità expert Per cui per ora Considererò comunque questo livello Come se fosse un A più